Dopo parecchi minuti, Nias si decise a lasciare andare il braccio di Alex e sollevò la mano tremante per detergersi il sudore che gli imperlava la fronte. Lo zio di mio padre aveva detto il vero, sussurrò, non sono tutti morti. Ma di chi stai parlando? Quei due erano Lugais, gli scavatore di Bill, gli inumatori di coloro che muoiono assassinati. Non hai visto che portava a noi il Cassì? Sono Tug, i seguaci di Bovani. La voce di Nias tremava. Adesso so che questo è un male che va estirpato se non vogliamo che gli antichi demoni rinascano. Quarant'anni fa lo zio di mio padre aiutò Sliman Sahib a sterminare gli strangolatori e mi ha raccontato. La voce gli morì in gola in un brivido. Andiamo via di qua, sbrighiamoci. Fra un attimo, sussurrò Alex, ce ne sono soltanto due lì sotto. Si alzò e si allontanò seguito da Nias. I due uomini si accoccolarono ai lati della pietra e attesero, mentre la luna si tuffava dietro l'orizzonte e la notte si faceva più scura. Finalmente la luce che proveniva dal pozzo si spense e poco dopo la testa di un uomo fece capolino nell'apertura. Alex attese che le spalle fossero completamente fuori, quindi afferrò l'uomo per la gola sollevandolo in uno sforzo disperato come se fosse un sacco di patate. «Che succede? Sei caduto?» chiese una voce dall'oscurità sottostante un attimo prima che una seconda testa apparisse. Le dita d'acciaio di Nias si strinsero attorno al collo flaccido dell'uomo, sollevandole e mandandolo a sbattere contro un masso con un rumore di noci spaccate. Fu tutto. «Quest'ultimo non taglierà altre gole», osservò Nias. «Il tuo è andato?» «Sì», rispose Alex senza fiato, lasciando cadere il corpo inerte ai suoi piedi. «E ora?» chiese Nias. «Ributtiamoli dentro. Se qualcuno tirerà su la pietra per cercarli, li troverà da aspettare». Fecero rotolare i corpi per i gradini e abbassarono il macigno, che nel silenzio della notte produsse un rumore simile a un colpo di cannone, risvegliando mille ecchi dalle mura diroccate. «Svelto!» ansimò Nias. «Qualcuno potrebbe tornare con questo rumore!» Attraversarono di corsa l'ampio cortile e si tuffarono nell'oscurità del Nallach, quindi raggiunsero il boschetto nel quale Alex aveva lasciato i cavalli. «E adesso? Dove?» chiese Nias, balzando in sella con un'agilità che mal si adattava con il personaggio di Yatu, il mercante di giocattoli. «Non possiamo restare insieme, dobbiamo separarci!» «A Langiore io prenderò la via di Pari!» «E io per quella a sud di Gunga!» replicò Nias. «Ci ritroveremo al confine! Adesso muoviamoci, fra un'ora farà giorno! Che cosa non darei per avere fra le gambe la mia giumenta invece di questo sacco di ossa!» Alle prime luci del giorno erano ancora a poco più di 20 chilometri da Kanwai. Le strade infatti erano accidentate e siccome la luna era tramontata era necessario procedere al passo per evitare che i cavalli si rompessero una zampa. Allo spuntare del sole i due amici si separarono. Da Kanwai a Langiore c'erano poco più di 150 chilometri. Non sarebbe dovuto essere difficile giungervi la notte successiva, ma i cavalli avevano bisogno di riposare. Alex era in grado, se necessario, di dormire in sella, ma avrebbe dovuto comunque fermarsi durante la giornata per permettere alla bestia di mangiare e di riposarsi. Il pensiero di quella sosta non gli andava a genio. Il suo istinto gli diceva di proseguire ad ogni costo, ma non c'era nulla da fare. Da un momento all'altro poteva spargersi la voce che qualcuno era intervenuto a quel raduno segreto grazie all'anello di Kishan Prasad e ciò avrebbe messo in allarme l'intera regione. Alex lanciò un'occhiata all'anello e, lasciate cadere le redini, se lo strappò dal dito con improvviso ribrezzo e lo scagliò lontano da sé. La voce che aveva sentito protestare contro l'assassino era stata proprio quella di Kishan Prasad e senza dubbio i responsabili di quell'atrocità erano i sacerdoti e l'individuo con gli orecchini di rubini. Ciò nonostante Kishan Prasad aveva organizzato quel rito blasfemo e come istigatore doveva essere ritenuto colpevole di ciò che era accaduto quella notte. Ancora una volta Alex si chiese perché non lo avesse lasciato morire. Aveva avuto l'occasione a portata di mano, ma qualcosa lo aveva costretto a salvargli la vita. Eppure, appena poche ore prima aveva ucciso un altro uomo, ben sapendo che cento di quegli individui messi insieme erano meno pericolosi di Kishan Prasad da solo. Era dunque la collera e non la giustizia ad armare la sua mano. Alex si guardò le mani macchiate di sangue. Bisognava evitare a tutti i costi una sollevazione. Se mai la sete di sangue che aveva scorto quella notte si fosse scatenata, molti innocenti sarebbero andati di mezzo. Lui stesso, cheppure era stato incapace di abbandonare Kishan Prasad a morte certa, quella notte aveva ucciso per vendetta, per la rabbia di aver visto un uomo trucidare un bambino. Se il terrore e l'odio che uomini come Kishan Prasad stavano spargendo fossero esplosi in ribellione, migliaia di bambini sarebbero andati incontro a una morte ben peggiore. Non deve accadere, pensò Alex disperato. Non deve accadere. In quel momento la giumenta scartò violentemente, forse spaventata da qualche animale, distogliendo Alex dai suoi pensieri e costringendolo bruscamente al presente. Poco dopo mezzogiorno, dopo aver dato da bere alla bestia e permesso che pascolasse in un prato, Alex si distese all'ombra di un albero per riposare. Un'ora più tardi, percorrendo con un drappello di uomini armati la strada polverosa, Nias notò che le impronte di un cavallo senza un ferro avevano lasciato la strada e, soddisfatto, capì che Alex si era nascosto per riposarsi. Ciò indicava che avrebbe viaggiato di notte. In un momento del genere era senz'altro più sicuro. Diciotto Era già notte e la strada era bianca sotto la luna quando Alex, dopo la giornata di sosta forzata, giunse nelle vicinanze della città di Pari. Aveva percorso ormai più di cento chilometri da quando aveva lasciato Canuai e pochi ormai lo separavano dal fiume che divideva lo Ud dal Langiore. Una volta oltrepassato il fiume c'era un'ora appena di cammino per l'accantonamento di Lungiore. La distesa della pianura, argente al chiarore lunare, era interrotta a tratti dalle sagome irregolari di arbusti secchi e di alcune rocce. Fra le ombre nere dei massi qualcosa si mosse e Alex tirò subito le redini mentre Nias, emergendo dall'oscurità, afferrava in silenzio il morso della giumente e la costringeva a lasciare il sentiero. Il giovane aveva il respiro affannoso e i fianchi del suo cavallo erano coperti di schiuma e sudore come se l'avesse fatto correre fino allo sfinimento. Non puoi andare avanti, bisbiglio Nias, come se temesse di essere spiato anche in quel deserto. La voce si è sparsa. Molti uomini, a Pari, hanno chiesto di un commerciante di cavalli Patan, una faccenda di bestie rubate, così dicevano. Ho attraversato la città e ho fatto un giro di due cos perché nessuno mi vedesse, ma il mio cavallo ormai è finito. Se il tuo riesce ancora a portarti, torna indietro e va al villaggio, nel punto in cui tre tombe sorgono sulla strada della fortificazione. Da lì parte un altro sentiero verso sud, attraverso la giungla. È una strada lunga e piena di pericoli, ma si interruppe e restò in ascolto. Da un punto lontano della pianura giungeva un rumore ritmico. Cavalli! Bisbigliò Nias. Si lasciò scivolare di sella, imitato da Alex, e trascinandosi dietro le bestie riluttanti, corsero verso il letto di un ruscello. L'ansimare dei cavalli sembrava terribilmente forte nel silenzio e Nias lasciò le briglie ad Alex dicendogli «Tienili tranquilli, vado a vedere chi viene». Fu presto di ritorno, troppo tardi. La ritirata è tagliata. Alex continuò a tacere. Tosse invece la piccola rivoltella che portava legata intorno al collo, controllò che fosse carica e la infilò nell'alta cintura di pelle. Nias a noi, soddisfatto, «Non credo che ce ne saranno altri sulla strada». Osservò, «Ti aspetteranno alle porte della città. Procederemo ancora per mezzo cos e poi dirotteremo per i campi. Le difficoltà verranno dall'altra parte perché il fiume si può attraversare in un solo punto e naturalmente sarà guardato a vista. «Beh, ci penseremo quando ci saremo lasciati la città alle spalle», replicò Alex sbrigativo. «Credi che questa bestia ti reggerà?» «Sarà meglio», rise Nias. Condussero i cavalli sulla strada e si rimisero in cammino verso la città. Quindici minuti più tardi lasciarono la strada battuta e costeggiarono i campi coltivati a sud di Pari. Un cane randaggio abbaiò al loro passaggio e subito un altro e un altro ancora gli fecero eco e la notte risuonò tutta dei loro lamentosi latrati. Un guardiano notturno issato su un macian, una sorta di piattaforma costruita fra i rami di un albero per tenere lontano maiali e animali selvatici, lanciò un urlo rauco e sparò un colpo con un antiquato moschetto. I pallini di piombo crepitarono tra il fogliame e pur senza fermarsi Alex sentì qualcosa di rovente laceragli il braccio mentre il sangue caldo gli colava fra le dita della mano sinistra. Dopo alcuni minuti di fuga un corso d'acqua scintillò davanti a loro e i due fuggitivi si trovarono sulle rive acquitrinose di una palude che si perdeva a vista d'occhio sulla sinistra mentre il latrare dei cani finalmente si acquietava. Nias tirò le redini e si lasciò scivolare a terra. C'è un sentiero davanti a noi, sussurrò. Tu non puoi vederlo perché si interruppe di colpo. Sei ferito! È solo un graffio, rispose Alex smontando rigidamente di sella. Nias tirò sulla manica intrisa di sangue. Un frammento di ferro con il quale il guardiano notturno aveva caricato il suo antiquato moschetto aveva scavato nella carne viva, producendo una brutta ferita che correva dalla spalla al gomito. Nias lacerò due pezzi di tessuto dal turbante di Alex e tamponò e fasciò con mani esperte la ferita. «Quel sentiero?» chiese Alex. «Piega a gomito sulla destra!» «Non era sorvegliato quando sono venuto poco fa, ma potrebbe esserlo ora. Aspetta qui, mentre vado a vedere!» Svanì nell'oscurità e pochi minuti più tardi riapparve silenziosamente. «Il sentiero è bloccato!» La sua voce era appena un soffio. «Hanno messo un carro di traverso!» «Ci sono due uomini, forse tre di guardia!» «E la palude?» «Ci metteremo fino all'alba per attraversarla se non finiamo annegati prima!» «Inoltre non potremmo portare i cavalli!» «Beh, non sarebbe una gran perdita!» «Le sentinelle al ponte probabilmente stanno aspettando un uomo a cavallo, anche se senza cavalli!» Tacque per alcuni secondi lasciando vagare lo sguardo lungo gli argini cosparsi di cactus. Ma erano ripidi e i cactus così fitti che neppure un'anitra avrebbe potuto passarci in mezzo. Lasciò le redini a Nias e gli sussurrò «Aspettami qui, vado a vedere anch'io!» Alex strisciò silenziosamente fra l'erba e vide che un carretto era stato messo di traverso e si avvicinò in silenzio e con soddisfazione notò che fra le ruote del carro era stata messa una balla di mangime e che una coperta era stata tirata per creare un momentaneo riparo e un fuocherello di sterco acceso dalle sentinelle. Due di loro sembravano intenti a giocare a carte, mentre la terza sembrava addormentata contro una ruota. Fra il carro e il bordo della strada era stato lasciato uno spazio sufficiente per un uomo, ma non per un cavallo. Alex tornò indietro e raggiunse Nias. «È facile!» gli spiegò il suo piano con poche frasi concise e Nias a noi. «Proviamo! Alla peggio siamo due contro tre e di tre ce n'è sempre uno che se la dà a gambe. Non possiamo permettere che neppure uno fugga per dare l'allarme. Dammi cinque minuti!» 19. Giunto a una dozzina di metri dal carretto, Alex si appiattì al suolo e cominciò a strisciare nella polvere, un centimetro alla volta. Poco dopo fu sotto il carro, al riparo della coperta e della balla di fieno, la testa a pochi centimetri dai piedi dei due giocatori di carte che tossivano e sputacchiavano, aspirando a turno uno hookah. La polvere e l'odore acre del fumo gli soleticavano le narici. I minuti trascorrevano lenti come ore e già Alex si stava chiedendo che cosa fosse capitato a Nias quando finalmente udì il suono che stava aspettando. Una voce, una voce roca e stonata che cantava una ballata oscena elencando nei dettagli le attrattive di una certa cortigiana di Deli. I due giocatori di carte si voltarono entrambi, mentre anche la terza sentinella si scoteva dal dormiveglia e imbracciava il moschetto in posizione di tiro. «Beh, deve essere qualche ubriaco che viene dalla città», borbottò uno dei giocatori di carte. «Ehi, chi è là? Non puoi passare, la strada è chiusa. Torna indietro, servo di Byron». «Tornare indietro?» biascicò il nuovo arrivato. «Dove? E da quando questa strada è chiusa, gli uomini onesti?» «Ordine del nuovo governo», disse l'uomo con il moschetto. «Non se ne può più. Prima, quel porco di patan, a cavallo che mi getta nella palude e mi inzacchera tutto di fango. E adesso anche la strada è chiusa, così non...» L'uomo con il moschetto afferrò Nias e lo trascinò alla luce del fuoco. «Che cosa stai dicendo? Quale patan?» «Laggiù, sulla strada!» Che il suo cavallo possa cadere nello stagno e a negare. Voleva sapere dove poteva procurarsi una bestia fresca, visto che la sua era finita, ma che ne so io, di cavalli e mercanti. Meglio una canzone. Su, cantiamo tutti insieme. «Oh, luna di bellezza!» «E' lui!» esclamò la sentinella con il moschetto. «Zitto! Sciocco! Sta venendo da questa parte?» «Chi?» «Il patan! Chi altri, vecchio gufo?» «E come faccio a saperlo? Se ne sta seduto sul ciglio della strada mentre il cavallo pascola! Vuoi davvero che torni indietro e se mi malmena?» «Si sa che i patan hanno un brutto carattere. Questo qui, poi, è proprio arrabbiato!» «Andiamo!» disse uno dei giocatori di carte stringendo la mano sull'impugnatura del pugnale. «C'è una taglia sulla sua testa! Resta vicino al carro, Dunno, e non far passare nessuno! E tu, bastardo, resta qui finché non torniamo! E se non hai detto il vero riguardo a quel patan, sarai battuto a dovere!» «Perché non avrei dovuto dire il vero?» chiese Nias, inciampando a bella posta e lasciandosi cadere nella polvere. «E va bene! Se non posso andare avanti, tanto vale che dorma qui! Un posto vale l'altro, in fondo!» Si tirò di nuovo in piedi e sbadigliò rumorosamente mentre i due uomini scomparivano lungo il sentiero. La terza sentinella si accovacciò di nuovo accanto al fuoco, ma poco dopo si udì un tonfo soffocato. Alex strisciò fuori dal suo nascondiglio scuotendosi la polvere di dosso. L'uomo che i suoi compagni avevano chiamato Dunno giaceva immobile a faccia in giù accanto al fuoco che languiva mentre Nias riponeva con gesti calmi il pugnale nel fodero. «Era proprio necessario ucciderlo!» lo redarguì Alex, irritato. «Non è morto!» ribatte Nias, toccando l'uomo con un piede. «Ho usato il manico e questi maiali hanno la pelle dura. Può darsi che gli abbia ammaccato un po' la testa, niente di più. Andiamo ora? Il viaggio sarà lungo a piedi!» «Ragiona di più, ragione di più per farlo a cavallo!» replicò Alex. «Persino un cavallo sfinito può andare più veloce di un uomo. Aspetteremo. Quei due saranno di ritorno presto e se non mi sbaglio penso che ci porteranno i cavalli!» Si chinò sull'uomo svenuto e con gesti rapidi cominciò a togliergli i vestiti e a infilarseli mentre Nias provvedeva a legarlo e a imbavagliarlo. Dieci minuti più tardi i due tornarono, portandosi dietro i cavalli trovati ai margini dello stagno. «Lui non c'era, ma abbiamo questi due cavalli e li abbiamo presi. Non può andare lontano a piedi!» Osservò l'uomo con il moschetto, infilandosi nello stretto passaggio fra la ruota e l'argine. Quindi emise un gemito e si accasciò sotto il pugno di ferro di Alex, mentre un grido soffocato dal lato opposto indicava che anche Nias aveva colpito la sua vittima. «Pua! Troppo facile!» disse Nias con disprezzo. «Sarà bene togliere di mezzo quest'affare adesso!» Trascinarono il caro da una parte e dopo aver fatto passare i cavalli, legarono i due uomini ancora privi di conoscenza. «Sarebbe meglio ucciderli!» suggerì Nias, così non potranno raccontare nulla a nessuno. «Ci sono già stati abbastanza morti. Non li troveranno fino all'alba e per allora noi saremo già dall'altra parte. Forse, porpottò Nias poco convinto, ma c'è quel maledetto ponte da attraversare!» Il breve riposo sembrava aver infuso nuova vita nei cavalli sfiancati che procedettero di buon passo verso il fiume, ma il braccio di Alex cominciava a irrigidirsi. Un frammento di piombo doveva essere ancora nella ferita. Andava tolto al più presto se si voleva evitare un'infezione. Meno di un'ora di marcia portò alle loro narici l'odore del fiume. Lasciati i cavalli in un boschetto, Alex e Nias procedettero a piedi per esplorare il terreno. Nel punto in cui la strada terminava, c'era una sorta di garita di fango e al di là, seminascosto da un boschetto di bambù, un piccolo gruppo di capanne che ospitava la famiglia del guardiano e dell'uomo che riscoteva i pedaggi. La sponda più vicina era bassa e delimitata da una fitta boscaglia spinosa che si apriva in un vasto spiazzo fino all'imbocatura del ponte. Ma dall'altra parte del fiume le rive erano alte, ripide e ostruite da una fitta vegetazione tropicale che avrebbe impedito l'accesso a chiunque. Un'alzaia costruita su una fortificazione in pietra correva sul versante dello wood sopra le acque profonde attraversate in quel punto dal ponte di barche, apparentemente indifeso nel silenzio della notte. «Sono dall'altra parte!» borbottò Nias. Alex anuì, accigliandosi. Conosceva bene le rive del fiume. Le acque scorrevano tranquille fra due mura di vegetazione impenetrabile. L'unico punto praticabile era proprio quello in cui c'era il ponte di barche, protetto dalla garitta dalle cui feritoie spuntavano le canne di alcuni fucili. «Vado avanti a cavallo!» annunciò Nias perché dovrebbero farmi del male. «In fondo stanno cercando un patan. Se sono in pochi posso farli fuori e darti via libera». Non aveva ancora finito di parlare che entrambi si immobilizzarono per ascoltare un familiare suono lontano. Era rumore regolare degli zoccoli di cavalli al galoppo e pochi minuti più tardi cinque cavalieri li superarono sollevando una nuvola di polvere soffocante. Puntarono verso il ponte. Nias emise un profondo sospiro di costernazione. «Hai visto? Fra quegli uomini c'era almeno una delle tre sentinelle del carro. Te l'avevo detto che era meglio ucciderle. Ormai anche questa strada è chiusa. Tanto vale che torniamo indietro e riprendiamo per Kanwai. Nessuno ci cercherà laggiù. «Tornare per essere braccati per tutto lo wood? No, grazie. Dobbiamo andare avanti o morire». «Quand'è così?» «Credo che la nostra ora sia venuta», constatò Nias cupamente. «Se riusciamo a raggiungere il ponte potremo passare il fiume a nuoto», disse Alex pensieroso. «Potremmo tenerci contro le barche e...» «Impossibile! Lo spiazzo è troppo ampio e non riusciremo ad arrivare all'acqua, neppure strisciando e poi il fiume è pieno di coccodrilli». Alex dovette rassegnarsi all'evidenza di quelle parole. Aveva dormito poco più di tre ore negli ultimi due giorni, la testa gli doleva, il braccio ferito lo tormentava e pulsava con tale violenza che temeva potesse essere udito nel silenzio della notte. Ma a poco poco Alex si rese conto della vera natura di quel rombo sordo che lo ossessionava. Non era né la ferita né la confusione. Erano carri che si avvicinavano lentamente al ponte. Una lunga fila di scricchiolanti carri trainati da buoi, uno spettacolo molto comune in India. I conducenti dormono mentre gli animali avanzano pazientemente un passo dietro l'altro nell'oscurità. Alex sfierò il braccio di Nias indicando la direzione dalla quale proveniva il rumore. «Lascia andare i cavalli!» sussurrò «Non ne avremo più bisogno e non credo che per questa volta la nostra ora sia suonata. Ci porteranno loro dall'altra parte». Abbandonarono i cavalli sfiniti e tenendosi nell'ombra corsero verso i carri. Lungo la strada stavano sopraggiungendo, a passo di lumaca, nove carri i cui conducenti accocolati a cassetta dormivano saporitamente. Una tremolante lanterna a olio sul primo carro permise loro di vedere che erano carichi di mangime e di canna da zucchero. Alex e Nias si lasciarono scivolare fra due carri facendo attenzione che nessuno si svegliasse. «Dentro!» bisbigliò Nias mentre Alex si creava uno spazio fra i sacchi. I pazienti buoi non rallentarono il passo né sembrarono accorgersi del nuovo peso. I carri continuarono ad avanzare sobbalzando e cigolando sulla strada irregolare e quando finalmente giunsero sul terreno sabbioso una voce sonnacchiosa risuonò dalla garitta di fango. Risvegliati bruscamente dal guardiano i conducenti dei carri fermarono le bestie e dopo una concitata discussione ripresero lentamente il cammino. Uno alla volta attraversarono il ponte che ondeggiava e gemeva sotto il peso e uno alla volta giunsero sulla terraferma. Alex non aveva potuto sentire gli ordini urlati dalle sentinelle a causa del rumore assordante delle ruote ma quando finalmente il carro si fermò percepì uno scambio iroso di parole. «E questo che cosa sarebbe? Un altro pedaggio?» urlava uno dei carrettieri. «Un patan!» «No! Non abbiamo visto nessun patan!» «Guarda per conto tuo se vuoi!» «Cavalli? Quali cavalli?» «Questo non è un gari tirato da cavalli, non lo vedi? Solo vuoi? Trasportiamo mangime e altre merci a lungiore ma da dove vieni per non sapere certe cose?» «Può anche darsi che abbia fatto un pisolino strada facendo ma se credi che stia trasportando cavalli e patana accomodati pure e controlla con i tuoi occhi ma sbrigati, non possiamo aspettare tutta la notte». La luce di una torcia tremolò mentre gli uomini scrutavano sopra e sotto i carri. «Prova con la baionetta!» ringhiò una voce. «Già! E chi mi ripagherà i sacchi rotti?» protestò il carrettiere furibondo. Le voci si allontanarono e dopo alcuni secondi qualcuno si arrampicò in cima alla pila di sacchi sotto la quale si nascondeva Alex. La lama della baionetta trafisse i sacchi e mancò Alex per un millimetro ma si impigliò nella fasciatura e la strappò via. Il sangue riprese a uscire a fiotti tuttavia l'uomo non si accorse di nulla e passò al carro successivo. Alex cercò di fermare l'emorragia se il sangue avesse gocciolato sulla polvere della strada sarebbe stato impossibile non vederlo quando il carro si fosse mosso. Infine dopo quella che gli parve un'eternità i carri ripresero lentamente il cammino. Era finita erano passati la soffocante polverosa oscurità si richiuse su Alex che ancora dormiva quando Nias lo estrasse dai sacchi macchiati di sangue nell'alba perlacea. Tre ore più tardi lavato, rasato e rifocillato con la ferita medicata e il braccio steccato Alex faceva il suo ingresso alla residenza. Il commissario era occupato con un visitatore e fece dire al capitano Randall di attendere. Sedutosi comodamente su una poltrona della veranda Alex si accinse ad aspettare erano passate più di 30 ore da quando aveva lasciato Kanwai e un'ora di più non avrebbe fatto molta differenza. Dal salotto di Barton provenivano dei sussurri e Alex immaginò che si trattasse di una visita privata e non ufficiale. Dopo un po' un ciuprassi che se ne stava cocolato in un angolo della veranda balzò in piedi e sollevò la tenda di cane che schermava una delle porte del soggiorno e Alex udì la voce del commissario a comiatarsi affabilmente da qualcuno. Un uomo un indiano superò il ciuprassi e si incamminò lungo la veranda. Era Kishan Prasad. Alex non mosse muscolo il suo volto rimase impenetrabile mentre Kishan Prasad si avvicinava a lui con passi felpati e lo salutava con un inchino. Alex non ricambiò il saluto fissò l'indiano attraverso le lunghe ciglia scure con occhi di ghiaccio e sorrise. Involontariamente Kishan Prasad si ritrasse e per una frazione di secondo parte della sua sicurezza si incrinò ma si riprese subito e quando parlò la sua voce era calma e cortese. Ah capitano Randall che piacere inaspettato il commissario mi stava dicendo che non vi attendeva fino alla prossima settimana sono desolato di vedere che siete ferito al braccio niente di grave mi auguro. No niente di grave rispose Alex con un gelido sorriso è stato gentile da parte vostra venire qui così mi risparmierete la seccatura di mandare una scorta a prendervi. A prendere me? E per portarmi dove di grazia? chiese Kishan Prasad ostentando un cortese stupore in prigione e al patibolo. Ma caro capitano Randall confesso di non capire è forse uno scherzo? Capite perfettamente replicò Alex a bassa voce l'omicidio è sempre stato un peccato mortale. Omicidio? E che altro? Che percorra tutto il paese da nord a sud da est a ovest e ovunque passerà i cuori degli uomini si riempiranno di odio verso l'oppressore perché questa è la peste questo è il male questo è il sangue degli inglesi citò Alex in dialetto locale. Vide le pupille di Kishan Prasad dilatarsi e aggiunse sì avevate ragione sono io l'uomo che i vostri tagliatori di gole stanno cercando per tutto lo wood dovreste fare più attenzione a chi ammettete alle vostre riunioni. Non capisco ripete rigidamente Kishan Prasad ah ma io sì ribatte Alex avevo sentito molte storie ma fino a due notti fa non avevo prove adesso le ho e la vostra vita è quella di tutti coloro che erano laggiù e condannata due volte per sedizione e assassino. Kishan Prasad emise un sospiro chiaramente udibile e dopo alcuni secondi disse con voce mielata quell'assassinio non è stato voluto da me io non faccio la guerra ai bambini e se avessi saputo che cosa si tramava l'avrei evitato quanto al resto vi ho già detto altre volte che ardo dal desiderio di abbattere la compagnia e a tale fine userò ogni mezzo che mi riuscirà di trovare non potete impiccarmi perché la prova che credete di avere non è una prova è solo la vostra parola e non sarà creduta no sollevò una mano per interrompere le parole che Alex era sul punto di pronunciare statemi a sentire fino in fondo non so come abbiate fatto a sapere di quell'incontro né come siate venuto a conoscenza della parola d'ordine ma mi rendo conto che se io stesso in un attimo di follia non vi avessi dato quel pegno non avreste mai visto ciò che avete visto eppure l'uso di quel pegno vi ha tradito sono stato informato che un certo patan era entrato osservendosi di quell'espediente non potevo crederci eppure era accaduto la parola si sparse e nel caso quel patan non fosse stato ritrovato organizzammo un piano di emergenza se mandaste degli uomini a cambai non troverebbero nulla a prova di ciò che sostenete quanto a me ho centinaia di testimoni che possono dichiarare che ero altrove quella notte credo Rao Sahib osservò Alex cupamente che la mia parola verrà creduta contro quella di cento dei vostri testimoni anche quando uno di questi testimoni è lo stesso commissario del lungiore chiese a bassa voce Kishan Prasad il volto di Alex si irrigidì quindi il giovane balzò in piedi con uno scatto che fece arretrare Kishan Prasad non ci credo esclamò quindi in un rauco bisbiglio e invece scoprirete che è proprio così ribatte Kishan Prasad vedete quella notte c'è stata una una festicciola nella dimora di un amico comune e forse il commissario ha alzato un po' il gomito non rammenta granché di ciò che accade ed è convinto che anch'io fossi presente è stato anche così generoso da ammirare un piccolo dono che gli ho portato dalla Francia un giocattolino ingegnoso che ha avuto la grazia di accettare ne ha persino parlato al colonnello Maunson che è con lui adesso vedete Kishan Prasad abbozzò un gesto di finta desolazione che lasciò Alex sconfitto e amareggiato Kishan Prasad aveva sfruttato al massimo sia la vanità sia la dissolutezza di Barton doveva essere stato semplicissimo per lui mandare a quella festa qualcuno che gli somigliava e se il commissario in persona avesse ammesso di aver visto Kishan Prasad quella sera nulla al mondo avrebbe potuto indurlo a ritrattare la sua parola sarebbe equivalso ad ammettere che era troppo ubriaco per connettere diranno che vi siete sbagliato proseguì Kishan Prasad quanto alla riunione di cui parlate diranno che si trattava semplicemente di un raduno di scontenti chiacchiere nient'altro che chiacchiere devo anche dirvi perché non vi crederanno perché non lo desiderano i colonnelli che comandano i reggimenti dei sepoi in questa zona sospettano già che i loro reggimenti siano un covo di rivoltosi gli ufficiali indiani mostrano in vari modi in vari modi la loro mancanza di rispetto eppure ciascuno di loro fa a gara con il vicino per urlare che tutto va bene vedete vi sto parlando in tutta franchezza che bisogno c'è di fingere fra noi quando entrambi sappiamo di sapere guardò il volto rigido di Alex e abbassò la voce dovete rendervi conto anche voi che non ce la farete a vincere questa battaglia la compagnia non ha che una manciata di uomini e il suo potere è una chimera ho visto il massacro di Sebastopoli e so perfettamente che la vostra regina non ha altri soldati da mandare qua giù non combatteteci unitevi a noi non sarebbe la prima volta che gli uomini occidentali raggiungono la grandezza nelle armate hindù potrei citarvene molti George Thomas Ventura Potter Gardiner Alex scoppiò a ridere e la sua risata fece arrossire Kishan Prasad la mano gli ricade e fece un passo indietro mi dispiace disse quindi con gravità è stato sciocco da parte mia molto convene Alex Kishan Prasad sorrise sono anche spiacente che il sangue che ci scorre nelle vene ci renda nemici forse nella vostra prossima vita sarete un hindù forse replicò Alex dopo che vi avrò impiccato in questa anche questo forse accadrà disse Kishan Prasad ma il momento non è ancora giunto si accomiatò da Alex con la massima deferenza e se ne andò